La bandiera armena si compone di tre strisce orizzontali di uguali dimensioni, rosso, blu e arancione. Su questi colori esistono varie interpretazioni, ma tra esse la più accreditata è che il rosso simboleggia il sangue versato dagli armeni per difendere la propria nazione, il blu il cielo, mentre l'arancione la fertilità della terra. È stata adottata ufficialmente nel 1991, anno in cui si separò dall'Unione Sovietica, e riprende quella che fu adottata nel 1918 dalla prima repubblica armena, anche se con proporzioni diverse.